Allora, la maggior parte degli uomini sono come una foglia secca che si libra nell'aria e scende ondeggiando al suolo. Ma altri pochi sono come stelle fisse che vanno per un loro corso preciso e non c'è vento che li tocchie, hanno in se stessi la loro legge e il loro cammino. Fino a pochi anni fa li tiravo io i suoi caretini, poi basta, sono sto, sono stanco, vado in pensione. Anche lui, mo che, lui continua e non si stanca mica, abbiamo son decenni che quel bafone qui in piazza prende in giro tutto e tutti. La sua satire è tagliente e comprensibile, davvero, la capisco anch'io. È la nostra macchina del tempo, pensate che ha attraversato quasi tutto il Novecento, è nato nel 1925. Ha raggiunto l'essenzialità di un genio, beh, mo l'ha detto anche Michele Serra, com'è che l'ha chiamato? Ah, ecco, l'ha definito One Man Show. Mo per me sarà sempre 61. Chanto! 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 At last My love has come along My lonely days are over And life is like a song Oh, yeah, yeah At last The sky's above the blue My heart was wrapped up in clover The night I looked at you Comunque, il tempo passa e ci vuole il fisico per fermarlo Se lo spazio è velocità diviso tempo Il tempo è spazio diviso velocità Integrale triplo di 1464 Y in dx Di y di z Condominio uguale a x, y e z Appartenenti a R3 Tale che 0 sia minore o uguale di y Minore uguale di z Minore uguale di x Minore uguale di 1 Ma certo Fa 61 No, non quel fisico Un fisico coi baffi Guarda, ha già i baffi Sarà lungo almeno 61 centimetri Beh, ma chiamiamolo ben 61 Santon Per mia ragione Tanta gente E va in depressione Al dottor Che ho prescritto Una mocha Una volta io l'è Detercito Depressivo La mia ragione La mia ragione Iscriviti La mia ragione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti